Qual è la connessione tra la nascita della filosofia e la città greca, la polis? In altri termini, poteva nascere la filosofia in un mondo solo contadino e rurale? Sicuramente la storia della nascita della filosofia è strettamente legata al fatto che le città e non le corti principesche dell'epoca arcaica che si rispettiavano nell'epo somerico divennero l'istituzione effettivamente portante della vita sociale. Si diffuse così una nuova forma di vita pubblica, uno scambio che noi gente del nord, io provengo dal nord Esperio, ascoltiamo sempre con meraviglia. Alludo all'incessante brusio di voci nelle strade e nei mercati del mondo del sud. In questa atmosfera si è sviluppata in effetti un'enorme abilità oratoria e un'incredibile gioia della parola. La filosofia greca non è affatto pensabile senza la dimensione pubblica della vita associata. Infatti, una gran parte della filosofia e della retorica proviene, come è noto, proprio dalle città della Magna Grecia.